Dove possiamo Possiamo mangiare qualcosa che non sia pollo? Offro io Tante arie Gli ducchiado se ne incontro uno Tu non osi Ti preoccupi per i soldi che devi? Tranquillo Grazie Tra un paio di giorni sistemiamo tutto Sono qui Se lo uccidia Quella con lecca lecca è una veggiante più brava Lavorare a lungo termine solo contro i segugi Bene Questa è un paio di giorni La cosa che apri con questa chiave è stata occultata In un modo mai visto Ma mi disse che sarebbe arrivato Questa è la possibilità di farlo Questa è un paio di giorni Questa è una fuñanza Questa è un paio di giorni Questa è la possibilità di guardare Questa è un paio di giorni Tu mi conosci. Quando devo aprirla? Quando dubiti della verità. Uccidilo. A presto, Nick. A presto, Nick. Bocca. Premi il grilletto.